Rifondare il Movimento 5 Stelle. Rifondare, vedete, è un concetto che non utilizzo a caso. Introduce una prospettiva impegnativa, non si limita quindi a operare, non suggerisce un'operazione di restyling o rinnovo superficiale al fine semmai di incrementare il consenso. Rifondare non è un'operazione di marketing politico. Rifondare significa puntare tutti insieme a compiere una completa opera, coraggiosa aggiungo, di rigenerazione del Movimento, che però non rinneghi il passato e i valori che vi hanno portato sin qui. Anzi, direi che deve essere un'opera che valorizzi l'esperienza fatta, i traguardi si non rai raggiunti, ma sia capace al contempo di interpretare una nuova stagione politica e di proiettare il neo-movimento in una dimensione strategica che lo renda un laboratorio privilegiato di idee, di progetti diretti a realizzare un nuovo modello di sgruppo. Grazie a tutti.